Buon pomeriggio, mi chiamo Elio Gullo e lavoro al Dipartimento della Funzione Pubblica, in particolare in questo momento sono Direttore Generale dell'Ufficio Innovazione e Digitalizzazione. Vi ringrazio per l'invito che mi avete rivolto di tenere una breve relazione introduttiva al vostro convegno e in particolare volevo ringraziare il Presidente della Regione Calabria per aver avviato un bando di una certa importanza sulle competenze digitali, volta appunto a supportare, a offrire un'opportunità a chi cerca lavoro di poter colmare le carenze su questo ambito. Diciamo, competenze digitali sono così richieste nel settore lavorativo in qualunque ambito, non soltanto in quelli che sono più facilmente collegabili alle tecnologie. Lo dico con stima professionale anche per un paio di motivi, uno legato alla mia vicissitudine personale, io sono, come penso si sarà capito, meridionale, sono nato a Catanzaro e moltissimi anni fa, almeno non dico più l'età, dopo la maturità scientifica scelsi di studiare informatica in una importante università del Centro Nord, il Pisa, e con questo bagaglio di competenze ho avuto moltissime opportunità di carriera e ora mi trovo in particolare a lavorare nel settore delle competenze digitali e dell'ammissione pubblica. Come sapete la PIA italiana, che non ha più dipendenti di altre nazioni a noi omologhe, anzi molti di meno, ha anche per sovramercato un problema di età avanzate, età avanzata del personale che significa non molto ricambio e significa chi è uscito, chi ha l'età media di 53-54 anni, come capita in molte amministrazioni, sono persone che sono entrate nel mondo lavorativo quando ancora internet non c'era, non solo non l'hanno studiato all'università, ma non c'era proprio, quindi non c'era proprio l'opportunità di sapere cosa volesse dire servizi online, non c'erano per niente. Allora, noi stiamo provando come Dipartimento della Funzione Pubblica a catalogare le competenze richieste al personale, misurarle per offrire sia opportunità di formazione e per colmare le competenze dove sono assenti e secondo per indirizzare al meglio le possibilità di assunzione che finalmente, dopo molti anni, si sono aperte per le amministrazioni pubbliche e che quindi porteranno nuova linfa dentro i nostri uffici. Un'amministrazione pubblica che non abbia competenze su questo fronte è un'amministrazione che non genera valore, che diventa ancora di più freno per gli altri settori produttivi, che non offre opportunità diretta di assunzione di cervelli e nemmeno indiretta di creare tessuti produttivi che siano adeguati a una potenza industriale del rango di quella italiana. Tutte le amministrazioni di altri paesi europei con cui noi ci confrontiamo lasciano proprio, fanno capire esattamente come una delle distanze fondamentali sia esattamente questa. Immaginare che l'amministrazione pubblica italiana possa migliorare perché vi sono gruppi di persone molto competenti sul settore tecnologico, che è il mio settore, sono in grado di informatica, è una pia illusione. In realtà la competenza digitale non è una competenza di settori esclusivi, di esperti. Gli esperti servono in parte, in realtà è una competenza diffusa. Tutti noi dal mattino quando ci svegliamo alla sera, prima di andare a dormire, utilizziamo costantemente dispositivi e utilizziamo strumenti e servizi digitali. Ce li abbiamo in tasca con lo smartphone, appena andiamo in ufficio, con il nostro computer o a casa con il tablet, quando utilizziamo i nostri televisori, stiamo utilizzando strumenti digitali, costantemente digitali, il navigatore elettronico sia sullo smartphone che sull'automobile e la dimestichezza che abbiamo nell'uso quotidiano di questi strumenti in realtà non deve far immaginare che sia una competenza richiesta a pochissimi specialisti. Per poter immaginare servizi allo sportello, servizi di prossimità, servizi di supporto ai disabili o altro, servizi sociali per esempio, non è immaginabile che siano necessarie competenze verticali in quegli ambiti ma non digitali. Voi immaginate una cosa molto banale, immaginate i servizi sociali alla persona svolti presso l'abitazione di chi è in difficoltà da un assistente sociale. Uno poteva dire, va bene, avrà studiato quello che ha studiato, cosa deve sapere di digitale. Beh, esaminiamo cosa fanno anche alcune realtà virtuose nel nostro paese ma in altri ambiti, in altri paesi. Ho avuto di recente un incontro con un'importante società statunitense e mi dicevano che appunto in Australia per diminuire il tempo per certificare lo stato di disagio sociale che bisogna in alcune aree del paese e dedicare più tempo al disagio sociale e meno tempo alla burocrazia a fare carte. L'assistenza sociale, quando si reca presso un appartamento per verificare, sono alloggi popolari dati a popolazione in disagio, tra virgolette, l'assistenza sociale si reca presso l'appartamento con un tablet, entrando nell'appartamento col tablet stesso può fare delle fotografie per capire se vi sono difficoltà anche dal punto di vista abitativo, dopodiché fa una piccola intervista con la persona, il genitore di un disabile potrebbe essere una persona stessa che è in difficoltà, magari anziana, per evitare di perdere qualunque battuta la riprende mentre la sta intervistando e sul tablet ha una checklist che può facilmente utilizzare per stendere una piccola relazione. Uscita dalla seduta che ha fatto presso l'appartamento dopo un'ora, un'ora e mezza, l'assistenza sociale ha finito il suo lavoro, nel senso che non deve fare come si fa invece in altri campi, torna in ufficio, stendi la relazione, la invia al tuo superiore e poi se vi sono delle ricadute del settore di alloggi popolari invia la pratica alloggi popolari, se c'è una ricaduta di campo medico la invia all'asle e così via. In realtà da quel tablet compilando i moduli che ha compilato in presenza dell'interessato ha direttamente fatto la pratica e tutto quello che ne consegue viene automaticamente gestito da un software che inoltre l'unico rapporto che ha fatto corredato o no di intervista, riprese video, le fotografie dell'appartamento e così via a tutti coloro i quali devono intervenire. In questo modo nel senso sociale che operi in Australia può dedicare molto più tempo, come è corretto che sia, alle persone in disagio e molto meno tempo a scartoffie. Ecco ho fatto un esempio se volete banale e moltiplicatelo per migliaia di casi simili e decine di migliaia di persone che possono essere o trovare più utile che il dipendente pubblico e i suoi servizi siano dedicati rigorosamente a quello che serve a non far girare le carte. Ecco è il modo in cui io trovo più facile se volete per dire cosa significa competenze digitali, competenze di tutto il personale che devono poter utilizzare con facilità gli strumenti esistenti opporre poca resistenza al cambiamento. Il cambiamento deve essere agevolato, favorito. Gran parte dei nostri cervelli, qua dico nostri, parlo anche di me, di noi nel meridione che affrontiamo sacrifici le nostre famiglie in particolare per studiare e non trovare lavoro nei settori dovuti e dover andare via. In realtà depa opera di energie e di risorse anche per il cambiamento, per cui è molto importante che siano possedute delle competenze adeguate, ci si impegni per possederle ed è importantissimo quello che appunto ha fatto la Regione Calabria di un bando in quest'ambito e io mi auguro non soltanto che abbia molto successo il bando in assoluto e sia possibile tirar fuori il massimo dell'occupazione, ma che quella trovi spazio e posto nella nostra Regione e nella mia Regione, dove amici e parenti, nipoti, dove spero sia possibile per loro fare quello che a me non è stato possibile, ovvero di studiare e non riuscire più a ritornare. Mi auguro che invece vi sia una possibilità da questo punto di vista, perché fortunatamente la ferrovia possono impiegare molto tempo ad arrivare in Calabria, ma il digitale annulla le distanze, quindi avere personale e competenze professionisti in grado di operare in quest'ambito in molti casi può annullare distanze e può agevolare l'insediamento produttivo e l'arrivo di investimenti stranieri. Intanto vi ringrazio e auguro a tutti un buon proseguimento dei lavori.